Un riconoscimento per l'impegno sportivo ma soprattutto sociale da 40 anni al servizio di Trani e della Puri ha conferita la stella di bronzo al merito sportivo alla SD Atletica Tommaso Assi, la polisportiva tranese che proprio quest'anno celebra i 40 anni dalla sua fondazione in memoria dell'indimenticato mezzofondista e allenatore tranese di atletica leggera italiano Tommaso Assi. Il riconoscimento arriva ad Alconi nel giorno della presentazione della tredicesima edizione della Trani in Corsa Alf Marathon Tappa della Corripuglia 2023 in programma nel weekend a Trani. La stella di bronzo al merito sportivo è motivo d'orgoglio ma soprattutto un ulteriore motivo per proseguire la strada che unisce sport e sociale. A servizio dello sport perché effettivamente quello che abbiamo cercato di fare in questi 40 anni è che continueremo a fare esattamente questo, una missione, una missione per i nostri atleti e quindi dal punto di vista agonistico nella competizione, nel divertirsi ma una missione anche da un punto di vista sociale. Quest'anno abbiamo questa partnership con la Lilt rappresentata dal professor Schittulli ma ogni anno ci piace sposare una causa perché lo sport è anche questa, è una missione. E proprio Francesco Schittulli, presidente nazionale Lilt, nonostante l'assenza ha voluto mandare un messaggio per commentare il significato della partnership con la Tommaso Assi. L'attività fisica e quindi lo sport è una dei tre pilastri della prevenzione primaria insieme alla lotta al tabagismo e alla corretta alimentazione. La regolata di attività fisica impedisce anche di, o rallenta il processo di sviluppare determinate patologie e qui è una forma quindi davvero di prevenzione. La stella di bronzo al merito sportivo è stata consegnata dal presidente regionale del CONI, Angelo Giliberto. Il CONI dà questo riconoscimento alla Tommaso Assi perché è un'associazione che fa sport a 360 gradi, dai bambini agli adulti, ma toccando anche punte di vertice nelle organizzazioni, basti pensare ai 25 anni del trofeo Tommaso Assi Trani dove è intitolata questa polisportiva e che è uno sportivo che ha dato lustro e prestigio alla nostra comunità sportiva. Quanto alla manifestazione sportiva, anche quest'anno la Trani in Corsa fa il pieno di partecipanti con iscritti in arrivo da tutta Italia. Per la verità abbiamo cominciato lo scorso weekend, mi piace ricordarlo perché abbiamo portato a Trani 453 atleti provenienti da 15 regioni. Continueremo questa settimana, questo weekend, abbiamo 1200 iscritti nella mezza maratona della domenica, oltre ai 1000 iscritti nella Trani Net Run che ormai è diventato un appuntamento fisso per le famiglie.